Shift modale vuol dire fa scendere la gente dall'automobile e portarla sulle ferrovie. Oggi noi abbiamo in Italia mediamente l'80% della gente che sta viaggiando ancora in automobile e il 20% che viaggia sul trasporto pubblico locale. Prevalentemente sul trasporto urbano, perché le grandi città metropolitane drenano il 13-14% e un 7-8% in ferrovie. Quindi la quota di mobilità complessiva delle ferrovie oggi in Italia è ancora bassa ed è la stessa europea e di tutti i paesi in realtà sviluppati. Quindi l'obiettivo è cercare di raddoppiare almeno questa quota, il che vuol dire togliere dalla strada tante automobili. E questo si fa dando un servizio puntuale, performante, dei treni belli, cioè dei treni dove la gente abbia voglia di stare e questi realizzeranno questo obiettivo. Grazie. Grazie.